L'associazione Siamo Taranto è a Tramontone e supporta l'azione istituzionale che svolge l'azienda, che svolge Chima Ambiente. Qui a Tramontone i volontari stanno davvero realizzando un'opera in mane di volontariato in termini di impegno, ma non solo di impegno, ma di risultati. La cosa che mi amareggia è vedere questo materiale di risulta, che è chiaramente materiale di edilizia, evidentemente si fanno i lavori, si smantellano pavimenti, bagni e quant'altro, piastrelle, e poi è quasi naturale per questi incivili lasciare i rifiuti, lasciare il materiale di risulta. Signora, lei è molto sensibile, abbiamo visto, ma pensavo a questo, si fa tanto magari per rifarsi una casa e poi magari non si pensa che c'è un'altra casa, la casa di tutti, che è la natura, che è il mondo circostante, che questo mondo, questa casa invece è abbandonata, è distrutta. La casa non è solo quella in cui noi mangiamo, dormiamo, ma la casa è quella comune. Ci circonda, io dico una cosa, il comune, siccome bisogna oggi chiedere necessariamente i permessi, la scia, la dia, questa e quell'altro, dovrebbero monitorare chi fa i lavori, devono anche avere dopo tutte le carte in regola, dove smaltire, perché per molti è facile fare i lavori, accatastare e poi tanto spendere magari 100 euro, 150 euro, perché qui guardi, lei non c'era, ma due anni fa sono stati raccolti, grazie a altri volontari, all'Amio che ha messo a disposizione mezzi, campo, oltre 26 camion di rifiuti ed è uno schifo perché insomma non è possibile. Ma poi oltretutto, qui si tratta di un'azione che deturpa la realtà in cui noi viviamo, in cui esistiamo e allora magari ecco l'idea, ecco di mettere qui, lancio l'idea a Chimambiente, al presidente Mancarelli, anche qui magari delle fototrappole, delle telecamere, perché questa è una zona purtroppo altamente candidata all'abbandono dei rifiuti. Allora, visto che abbiamo capito che a molti piace abbandonare qui i rifiuti, noi li becchiamo, li immortaliamo con foto e telecamere. Però c'è da dire una cosa, che il dottor Mancarelli è una persona eccezionale, veramente ha il cuore a pezzi, io non lo so come faccia ad andare avanti, perché io lo vedo, lo conosco, telefonate da tutte le parti, c'è da combattere ogni secondo, perché non è solo questo il posto. No, no, ma questo è un esempio. È dappertutto. Questa è una situazione però particolarmente incancrenita. Esatto, quindi speriamo bene. Però queste fototrappole le vogliamo, perché... Le metteranno, le metteranno, già. Sarebbe, sarà davvero bello... Ecco. Un po' di civili, veramente.